Allora Paolo possiamo cominciare? Sì, sì, sì. Allora cominciamo. Le nove in punto, un minuto. Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda... Grazie. 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 Punti critici per le democrazie, diceva il professor Magatti, è la chiusura. Punto critico. Come chiesa per le caritas che abbiamo, per i centri di ascolto che abbiamo, per gli oratori e i doposcuola che abbiamo, tutte fonti di integrazione, non ci riconosciamo in questa chiusura. Chiusura, fondata dalla crisi, dalla crisi delle democrazie. Però sempre abbiamo bisogno di recuperare delle ragioni di apertura e di accoglienza. Sempre abbiamo bisogno di ragioni. Ecco, chiediamo proprio agli autorevoli persone, personalità che stasera intervengono queste ragioni come una direttiva di marcia. E per questo li ringraziamo, anche se in questa forma online, che è sempre un rischio rispetto alla presenza, però ringraziamo della loro partecipazione. Bene, siamo ancora freschi della grande commozione, della tristezza per il naufragio di dieci giorni fa a Cutro. E mi sembra che vada sottolineato non solo la nostra commozione, ma anche, permettetemi anche un po' di indignazione per quanto è successo, per una tragedia che ha visto la morte di 72 persone, ancora non sappiamo il numero dei dispersi. Non è una tragedia nuova, si piangono adesso, tutti si stracciano alle vesti, cercando cause, contro cause e quant'altro. Conosciamo benissimo, il Mediterraneo è un mare di morte a partire dal 2013, anche prima, quando ci fu quell'enorme naufragio in cui morirono ben 268 persone e 20 dispersi. L'anno scorso nel mar Mediterraneo sono morti più di 1200 persone, quindi questa è l'ultima goccia di un problema che non possiamo più tollerare come cristiani, come cattolici, ma come cittadini d'Italia ed Europa. E quindi anche con questa premessa io do la parola ai relatori di stasera, che sono il dottor Simone Varisco, che è uno storico, uno scrittore e un ricercatore della Fondazione Migrantes, che appunto è anche un curatore dell'ultimo rapporto Caritas Migrantes e quindi sicuramente ci darà un po' uno visuale. Probabilmente ci saranno molti numeri, ma capiamo che dietro ai numeri ci sono delle persone, ci sono dei fatti, ci sono delle situazioni di sofferenza e quant'altro. E quindi do subito la parola a Simone Varisco, il quale fra l'altro è un po' in difficoltà perché è ancora mezzo ammalato, però insomma ci tiene ad essere presente. E dopo di che ci sarà invece il Monsignor Giancarlo Perego, che è l'Arcivesco di Ferrara e Comacchio, che è Presidente della Commissione Migrazioni della CEI, nonché Presidente della Fondazione Migrantes, che è l'organismo pastorale per i migranti in Italia. Fra l'altro è anche il coordinatore, il delegato dei Vescoi a livello della Regione Emilia-Romagna, quindi il mio superiore, si può dire. Bene, a te la parola Simone. Grazie Walter, mi sentite? Mi sentite? Spero che vediate anche le immagini, la voce, come giustamente ricordavi, non è delle migliori ancora. Ma speriamo che sono migliori nei prossimi giorni. Grazie intanto per l'invito, sicuramente, e un saluto a tutti lì in sala. Questa sera, nel mio intervento molto rapido, vorrei soffermarmi soprattutto sul contesto italiano dell'immigrazione. Costruire il futuro con i migranti, appunto, è il tema dell'ultimo rapporto di immigrazione di Caritas Italia e Fondazione Migrantes, che va a riprendere quello che è il tema del messaggio del Papa dell'ultimo gioco mondiale del migrante e del rifugiato. Abbiamo messo, come potete vedere, la parte ai rifugiati, quindi abbiamo preso soltanto il futuro con i migranti, non per una forma ovviamente di esclusione, di divulgazione, ma per la volontà di sottolineare una narrazione diversa, una narrazione nuova che possa soffermarsi in maniera specifica su una parte della mobilità che coinvolge l'Italia, che è poi quella della verità maggioritaria, anche a livello quantitativo o terzo storico, e che non è appunto quella dei rifugiati, dei clienti asilo, dei clienti profili, eccetera, ma che è quella delle persone migranti, quelli che qualche volta vengono indicati come migranti economici, che pur essendo appunto ovviamente la maggioranza in Italia, come poi vedremo, rischiano di essere doppiamente invisibili rispetto anche alla narrazione che viene abitualmente presentata della mobilità, che ovviamente è una narrazione che non risponde completamente a quella che è la realtà dei flussi migratori, della composizione dei flussi migratori, ma che soprattutto risente qualche misura anche in maniera comprensibile e umana e questo è il forte impatto emotivo ed umano, tragedie appunto gravissime, come quella del naufragio in Calabria negli anni scorsi, ma ce ne sono tantissime altre purtroppo nella storia d'Italia, non solo nel Mediterraneo e nella storia dell'Europa in generale, ecco hanno purtroppo tra le tante vittime e anche una narrazione completa della migrazione, perché si tende ovviamente, ripeto, in maniera del tutto comprensibile, a concentrarsi su quegli aspetti, ma appunto contandando in molti casi all'invisibilità, poi altro tipo di migrazione che caratterizza l'Italia. Innanzitutto direi una prima contestualizzazione a livello internazionale, ma è l'unica che farò questa sera, per appunto comprendere come la mobilità sia estremamente più ampia e più varia nei flussi migratori rispetto a quella che ci viene comunemente indicata. Certamente dal punto di vista mediatico, se dovessimo guardare, giudicare la migrazione dal punto di vista mediatico, ne vedremo probabilmente un paio di grandi direttrici, quella che dall'Africa, in particolare dall'Africa settentrionale, conduce all'Europa, attraverso il Mediterraneo, per i più attenti probabilmente anche quella che passa per la cosiddetta rotta balcanica e, se guardiamo ad altri contesti nel mondo, quella che dall'America latina e caraibica porta agli Stati Uniti. In realtà vedete che, e quindi, come dire, riproponendo spesso quella narrazione del sud del mondo che si sposta verso il nord del mondo, che è una tipica terminologia, se vogliamo, ancora degli anni 70-80. In realtà, come vedete, è molto più ampia, la trama è molto più fitta, la mobilità si interseca in maniera globale, davvero in maniera molto più stretta e scopriamo, per esempio, che tra i più grandi, anzi il più grande corridoio migratorio al mondo è quello interno all'Europa, cioè che vede migranti spostarsi, è la colonna che vedete sulla sinistra, migranti spostarsi da uno Stato europeo, non necessariamente dell'Unione europea, ma da uno Stato europeo verso un altro Stato europeo, per esempio dall'Italia verso l'Inghilterra, il Regno Unito, per esempio dall'Ucraina in fuga della guerra verso la Polonia, per esempio dalla Moldova verso l'Italia o dalla Spagna verso la Germania. è il grande flusso migratorio a livello internazionale, oltre il 70% di quelli che vivono da immigrati, cioè da cittadini stranieri in un paese europeo, sono originari di un altro paese europeo. E questo appunto è importante ricordarlo, perché già questo identifica e va a caratterizzare con maggiore puntualità e realismo quella che è la migrazione che tocca in gran parte l'Europa e che tocca anche in gran parte l'Italia, che la vede protagonista sia in uscita come paese di emigrazione sia in entrata come paese di destinazione. E veniamo proprio al contesto italiano in maniera più specifica. In realtà do qualche numero questa sera, ma non tantissimi, mi piacerebbe soprattutto soffermarmi sulle chiavi di lettura di questi numeri, però qualche cifra è necessaria per poter partire da una base oggettiva di riflessione. Sono quasi 5.200.000 in base a quelle che erano le stime Istat all'uscita del rapporto, ci sono nuovi dati che sono andati consolidandosi progressivamente negli ultimi settimane e si parla oggi di circa 5.030.000 cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. Comunque sia, siamo intorno all'8,8-8,6 della popolazione totale, ai quali vanno aggiunti circa mezzo milione di presenze cosiddette irregolari. Mi piace ricordare come la migrazione da un lato non sia certamente un aumento vertiginoso in Italia, anzi, se venissero confermati gli ultimi dati di quei 5.030.000 cittadini stranieri sarebbero in diminuzione rispetto all'anno precedente. Quindi tutte quelle narrazioni di invasione che anche in questi, e quindi anche quelle securitarie, di difesa, di protezione, eccetera, che anche in queste ultime settimane abbiamo sentito ripetere in base ai numeri, giudicando dai numeri, non hanno senso e base oggettiva. non soltanto però, ma per avere un quadro e una fotografia più completa della effettiva storicità della migrazione in Italia, dobbiamo guardare non soltanto a quei 5 milioni e poco più di cittadini stranieri, ma anche a tutti quelle centinaia di migliaia, in realtà siamo intorno ad un milione e 600 mila negli ultimi dieci anni persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che la maggioranza di esse continua a vivere in Italia. Saliamo quindi a 6 milioni e 800 mila cittadini con un background migratorio in Italia, cioè persone che in Italia, residenti anche di cittadinanza italiana, hanno nel loro passato un'origine straniera e una cittadinanza straniera che poi è divenuta cittadinanza italiana negli anni per diverse forme di acquisizione, in gran parte sono per residenza e misura minore, per ragioni di età, al compimento dell'età richiesta o per matrimonio. Quindi arriviamo a 6 milioni e 800 mila, 7 milioni quasi di persone, di cittadini stranieri e italiani che in qualche maniera in Italia hanno alle spalle un background migratorio. Questo ci dice in maniera, se vogliamo, più veritiera, più profonda, quella che è la società che è andata plasmandosi e che progressivamente continuerà ad essere plasmata in Italia dalla mobilità internazionale. Le comunità le vedete indicate lì sulla destra, sono comunità storiche ormai di presenza a livello nazionale, esattamente la comunità romena con quasi il 21% del totale dei cittadini stranieri, sono molti anche quelli che nel frattempo, negli anni, proprio per questa storicità, hanno acquisito cittadinanza italiana e poi a scendere l'Albania, il Marocco, la Cina e l'Ucraina. Mi piace sottolineare come in Italia la presenza si calcoli in oltre 190 nazionalità differenti che chiaramente si diversificano fra loro moltissimo dai pochissimi, magari personale, di consolati e ambasciate ai centinaia e migliaia, come nel caso della comunità romena, ma appunto le prime cinque comunità, lo vedete lì, raccolgono quasi la metà dei cittadini stranieri presenti in Italia. Se scendiamo quindi dall'attenzione macro, alla macro area globale, abbiamo visto le grandi trame a livello globale, poi scendiamo a livello nazionale con quei numeri di poco più di 5 milioni, scendiamo ancora di più a livello locale, regionale e provinciale, vedete appunto come le cifre sono anche in questo caso diverse e orientate sempre più ad un calo, sono poco meno di 550 mila i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna e rispetto all'anno precedente 2021, vedete meno 2,2%. È comunque una percentuale, un'incidenza, cioè la percentuale dei cittadini stranieri rispetto alla popolazione totale è comunque piuttosto elevata, superiore alla media nazionale, vi ricordo era meno del 10%, in Emilia-Romagna abbiamo il 12,4%. Così come a livello nazionale anche in Emilia-Romagna la percentuale è pressoché equamente distribuita fra maschi e femmine con una lieve presenza, una lieve maggioranza di femmine, questo perché ci sono una serie di lavori che vengono a richiedere soprattutto mano d'opera di sesso femminile, siamo per esempio alla collaborazione domestica, alla collaborazione familiare, che sono molto tipiche di un paese che va rapidamente invicchiando come è l'Italia e dall'altro lato perché è una migrazione quella in Italia storica, strutturale, ormai fortemente storicizzata e quindi caratterizzata in maniera piuttosto forte dalla presenza di famiglie e dalla presenza di motivazioni, come poi vedremo anche nei permessi di soggiorno ragioni familiari di ricongiungimento familiare, quindi non è per esempio la migrazione nuova, recente, tipica ad esempio dei paesi del Golfo che è caratterizzata soprattutto da giovani maschi soli che si spostano per lavorare nell'industria pesante di quei paesi, ma è soprattutto caratterizzata da ricongiungimenti familiari, donne che vengono richieste per un certo tipo di mansioni, eccetera. I paesi di origine ricalcano con qualche inversione di posizione, sostanzialmente come vedete le posizioni e i primi 5 insomma della livello nazionale, Romania, Marocco, Albania, Ucraina e Cina e anche le province, vedete che a livello provinciale Forlì-Cesena si colloca circa metà della classifica con 45 mila cittadini stranieri residenti. Vediamo se riescono ad andare avanti, sì. Se torniamo al contesto italiano, questa è un po' un'immagine che vi rappresenta graficamente quello che già accennavo prima e cioè siamo in una situazione di progressivo rallentamento dell'aumento, per non dire in realtà una stagnazione se non un calo, della immigrazione in Italia. Lo vedete lì dal punto di vista storico, questo fotografa gli ultimi 21 anni sostanzialmente dell'immigrazione in Italia, le barre dell'istogramma mostrano le cifre totali, il numero effettivo dei cittadini stranieri in Italia, quindi quei 5 milioni e poco più a cui facevo riferimento prima, la linea rossa invece mostra le variazioni percentuali anno per anno. Vedete che nei primi anni 2000, grossomodo fino agli anni 10, 2012-2014, abbiamo una crescita significativa anno per anno, sebbene mai su cifre da invasione, ma una crescita significativa dell'immigrazione in Italia. Fate pensare che nel 2002, lo vedete, non si raggiungeva il milione e mezzo di cittadini stranieri in Italia, nel 2014 ci siamo già quasi a 5 milioni. E poi un rallentamento progressivo, certo aumenta anno per anno, ma con ritmi decisamente più lenti, infatti vedete che la linea rossa va progressivamente a diminuire e ad appiattirsi. Questo per tutta una serie di ragioni, non ultime anche la sempre minore capacità attrattiva, sempre minore potere attrattiva dell'Italia come meta di immigrazione, sia per la situazione sociale, in alcuni casi negli ultimi anni con la pandemia socio-sanitaria, sia per la situazione del mercato del lavoro, la situazione economica e del welfare. Dall'altro lato anche la mancanza di provvedimenti che agevolino per esempio gli ingressi legali, pensiamo al decreto flussi, che è sempre una difficoltà da ottenersi, non agevolano. Scusate, l'immigrazione. Qui abbiamo sempre a livello di contesto italiano la presenza dei permessi di soggiorno in Italia con una evidente presenza soprattutto... Non sentiamo più. Non sentiamo più. Pronto? Scusate, adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. Allora torno, ripeto l'ultima parte. Una presenza evidente e netta di motivazioni che sono legate appunto ad un'immigrazione strutturale, per esempio quelle legate ai permessi di soggiorno per la famiglia, con anche ricongiungimenti familiari o quali legati al lavoro. E qui torniamo un po' a quello che era il discorso che facevo all'inizio, e cioè appunto che pur ovviamente nella straordinaria importanza e impatto emotivo della migrazione legata alla fuga della guerra e a contesti di difficoltà, ci sono moltissime persone che giungono in Italia anche attraverso il Mediterraneo, non soltanto scappando dalla guerra, ma per cercare motivazioni diverse rispetto a una situazione diversa dal punto di vista economico per esprimersi al meglio. E appunto le ragioni della famiglia, degli orienti familiari, quelle lavorative economiche sono tipiche dell'immigrazione in Italia. E vado a toccare, prima di concludere, tre temi molto rapidamente che sono tratti dal rapporto immigrazione, che ovviamente è pensato come uno strumento di lavoro, pensato soprattutto, speriamo, soprattutto per gli operatori, ma anche per l'uso che appunto se ne può fare a livello scolastico, a livello universitario, a livello di formazione, di aggiornamento, ma soprattutto per gli operatori sociali e pastorali, quindi anche per le reti Caritas e Migrante. Stocca vari temi, dalla scuola al lavoro, alla comunicazione, sono i tre temi che affronterò questa sera rapidamente, ma ovviamente c'è anche la giustizia, la salute e appunto molte altre tematiche. La scuola, perché ho scelto la scuola? Perché costruire il futuro con i migranti rimanda quasi naturalmente alla necessità di fare i conti con i giovani. Perché appunto si ricorda spesso come siano le generazioni future a dover costruire, se glielo consentiamo, il futuro. E in queste generazioni future in Italia non saranno, sono già presenti anche centinaia di migliaia, più di un milione in realtà di cosiddette seconde generazioni, di giovani, sono oltre un milione giovani in Italia di origine straniera che ancora non hanno acquisito la cittadinanza italiana. Ma come va nelle scuole? Qual è la situazione nelle scuole? Beh, la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ancora piuttosto significativa, supera il 10% degli alunni totali, cioè sostanzialmente un alunno su 10 nelle scuole italiane è di cittadinanza straniera, ma questa cifra sta progressivamente calando anno per anno e lo vedete lì, 865 mila erano gli alunni con cittadinanza non italiana nell'ultimo anno scolastico in calo di 11 mila unità, meno 1,3% rispetto all'anno precedente. È importante, lo vedete nel grafico in basso, sottolineare, visto che mi rivolgo appunto a Emiliani Romagnoli, che l'Emilia Romagna, lo vedete lì sulla sinistra, è la regione con l'incidenza più alta, quasi doppia rispetto alla media nazionale, 17,1%, è una regione nella quale ci si radica, si fa famiglia, si fanno figli, si mandano i figli a scuola. Tra l'altro è interessante perché la presenza anche, questo non l'ho ricordato prima, ma la presenza in Emilia Romagna è piuttosto variegata dal punto di vista delle comunità, per esempio ci sono cittadini albanesi che hanno una predilezione per le aree costiere dell'Emilia Romagna, oltre che ovviamente ad altre regioni, la Puglia, la Sicilia, la Calabria per esempio. La presenza della comunità marocchina, che è piuttosto diffusa in tutto il territorio nazionale, tende però ad avere una concentrazione soprattutto nell'area del nord-est e in particolare proprio in Emilia Romagna. I cinesi, i cittadini cinesi, che invece tendono a seguire un modello che sostanzialmente va a grumi, a gruppi, cioè si concentrano in alcune località, Prato per esempio, con una presenza molto forte di cittadini cinesi, anche in Emilia Romagna, oltre che in altri contesti, penso ad esempio addirittura a Matera o al Veneto, anche in Emilia Romagna ha una presenza molto forte. Ma tornando agli alunni, alunni con cittadinanza non italiana, lo vedete lì, il 66,7% di questi alunni cosiddetti stranieri è in realtà nato in Italia, quindi quegli 865.000 sono in grandissima parte giovani, bambini, bambine, ragazzi e ragazze che non hanno cittadinanza italiana ma che in realtà sono nati, cresciuti e stanno studiando in Italia e che probabilmente arriveranno alla età dell'università e si iscriveranno probabilmente ad un'università italiana da cittadini stranieri andando a falsare, loro malgrado evidentemente, quelle che sono le statistiche della presenza degli studenti universitari internazionali che in Italia risultano piuttosto presenti ma che in realtà sono in gran parte giovani, che appunto si iscrivono da straniere all'università italiana ma che in realtà sono nati in Italia ma ancora non hanno acquisito la cittadinanza italiana, con tutta una serie di problematiche evidentemente collegate anche alla mancanza della cittadinanza italiana e alla mancanza di un'adeguata politica di inclusione anche all'interno del sistema oltre che sociale e scolastico italiano e due su tutti, il ritardo scolastico, lo vedete lì a destra, a 10 anni già il 15% dei maschi e l'11% delle femmine è a 18, più del 60% dei maschi e del 54% delle femmine è in ritardo di almeno uno o più anni, ci sono problematiche linguistiche ma non soltanto, ma anche per esempio un minore supporto a casa da parte dei genitori o la necessità di avere dei viaggi frequenti con la famiglia, di lasciare per qualche tempo l'Italia e poi di ritornare ad anno già in corso. E poi il rischio di abbandono che è davvero una cifra drammatica, più di un terzo degli alunni stranieri in Italia sono a rischio di abbandono, la percentuale crolla al 13% se guardiamo agli alunni autotoni, il rischio di abbandono scolastico, cioè di un'interruzione precoce degli studi. Il lavoro, anche questo forse è un elemento interessante per dare un'interpretazione dei numeri, spesso siamo portati ad interpretare in maniera rapida e semplice i numeri, per esempio lì più 1,5% è il tasso di crescita, la crescita è il tasso di occupazione straniera, degli stranieri in età da lavoro, gli italiani il tasso di occupazione è salito del più 0,8%, ebbene questo dato potrebbe far pensare ad una situazione migliore per quanto riguarda i cittadini stranieri rispetto agli italiani che hanno trovato più lavoro, più facilmente, in realtà lo vedete questo aver trovato più facilmente lavoro, non si è assolutamente tradotto in una stabilità di tipo occupazionale, sono soprattutto contratti a termine, 7 su 10, e pochissimi sono quelli che si traducono in contratti a tempo indeterminato, più 11% per gli stranieri, più 40% degli italiani, questo che cosa ci dice? Ci dice che i lavoratori stranieri trovano sì più facilmente lavoro rispetto agli italiani, ma in realtà lo perdono molto più facilmente, infatti il tasso di occupazione si mantiene più basso, lo avete indicato a destra, e il tasso di disoccupazione degli stranieri si mantiene più elevato rispetto a quello degli italiani. Anche in questo caso c'è una grande criticità tra le varie, oltre all'accesso di formazione, l'over education e le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, eccetera, ce n'è una che è molto spesso sottovalutata, la etnicizzazione delle relazioni di lavoro che sostanzialmente si traduce in alcuni casi in una ghettizzazione dei rapporti di lavoro, alcune comunità sono portate quasi giocoforza a svolgere determinate mansioni, pensiamo per esempio alla collaborazione domestica con i filippini o alla collaborazione familiare per le donne dell'est Europa, o ancora per molti giovani nordafricani l'area del turismo o della ristorazione. Ebbene il rischio oltre che ha la ghettizzazione, che non rende libera la scelta occupazionale, è anche che laddove si verifichi una crisi specifica di alcuni settori, cosa che si è verificata con la pandemia, che ha colpito per esempio soprattutto la parte turistica alberghiera e della ristorazione, c'è un crollo dell'occupazione che va a colpire in maniera settoriale soprattutto le comunità straniere, cosa che appunto è accaduta. Chiudo sulla comunicazione, questi sono dati che sono più aggiornati rispetto a quelli presentati nel rapporto immigrazione, ho aggiunto i dati del 2022, semplicemente per fare una riflessione. Si è tornati negli ultimi anni, sono dati che ci vengono dall'osservatorio di Pravia, dalla Carta di Roma, che è l'organismo appunto che è legato alla deontologia del lavoro giornalistico, sono dati che fotografano il ritorno dell'accoglienza come termine, si è tornati a parlare di accoglienza. Dopo anni, lo vedete lì, 2019, 2018, 2017, dove di accoglienza si parlava pochissimo, si parlava molto di immigrazione, ma non se ne parlava mai o quasi mai in termini di accoglienza. Dopo anni, lo vedete nel 2015, 2016, dove invece si parlava anche di accoglienza. Bene, nel 2021, in parte con la crisi in Afghanistan, nel 2022 soprattutto, vedete che balzo, soprattutto nei telegiornali, nella informazione legata all'immagine, quanto si è tornato a parlare di accoglienza. Il 48% delle notizie dei telegiornali, cioè quasi la metà, ha parlato di immigrazione nei termini dell'accoglienza, cioè potremmo dire in termini bonari. Questo però perché potrebbe farci, come dire, sperare in maniera ottimistica rispetto al futuro? Beh, siamo tornati di nuovo disponibili, non è così facile, purtroppo non è così scontato, perché è molto legato a quello che è un impatto mediatico, emotivo di Afghanistan. Si è molto parlato nei termini dell'accoglienza, poi non si è più parlato di Afghanistan e oggi l'accoglienza nei confronti degli afghani, lo vediamo anche in molte tragedie, molti dei morti nel Mediterraneo sono afghani e c'è una forte indifferenza rispetto alla sorte di chi fino a un paio di anni fa invece era, come dire, al centro della narrazione mediatica. Viene da chiedersi che cosa accadrà fra un anno, due anni, tre anni con l'Ucraina. È già accaduto in realtà con la prima guerra in Ucraina nel 2014 e poi appunto non se n'è più parlato. Le cose vanno invece diversamente sui territori, questo è importante sottolinearlo, se la narrazione mainstream, quella principale, quella dei principali telegiornali social, quotidiani, eccetera, tende a presentare soprattutto la migrazione come un elemento emergenziale, un fattore securitario, un problema sostanzialmente da correggere, da impedire, da arginare, da combattere. Sul territorio, dove invece si ha più direttamente a che fare con la mobilità e con le caratteristiche della mobilità, ma mi correggo da solo, non tanto non si ha a che fare con l'immigrazione, si ha a che fare con gli immigrati, con le persone migranti. La narrazione cambia completamente, non se ne parla più soltanto di un problema, come di un'emergenza, ma se ne parla soprattutto nei termini delle storie dei soggetti migranti, dell'inclusione sociale a medio termine che va facilitata e nel racconto di forme di convivenza tra cittadini italiani e stranieri. Insomma è una narrazione che pur senza tacere quelle che sono le criticità, le problematicità e le storture certamente dell'immigrazione, ma come dire, dà un quadro certamente più completo e più oggettivo e più umano rispetto appunto all'immigrazione che coinvolge l'Italia. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Simone. Abbiamo colto in me lo sforzo che hai fatto con la voce per il problema della voce, per cui doppiamente ti ringraziamo della tua presenza. Se rimani con noi ci fa piacere, se hai dei problemi preferisci allontanarti, rimani benissimo, sicuramente avremo modo di interpellare anche a te. Adesso ascolteremo Monsignor Perego, in attesa che arrivi, ci dici tu Paolo quando arriva, o comunque lo vedremo alle mie spalle, posso dire, intanto faccio un breve commento sul rapporto Caritas Migrantes, sicuramente un rapporto in chiaro e scuro, cioè alcune cose positive risultano, altre invece meno positive. Questo rende conto della difficoltà del processo ancora di integrazione che si svolge in Italia e soprattutto anche nel nostro Paese. L'altra cosa che posso dirvi è che posso darvi anche qualche dato che come migrantes, come ufficio migrantes abbiamo raccolto riguardo alla situazione locale, posso dire che a Forlì, abbiamo visto il dato della provincia di 45 mila e più migranti, a Forlì gli stranieri sono 15 mila e qualcosa, o anche di più mi sembra, qualcosa di più e all'interno di questi 15 mila stranieri abbiamo un terzo, circa un 30% che sono presenti nel centro storico, quindi quando ci chiediamo chi sono questi stranieri, sono persone che abitano prevalentemente nel centro storico e in maniera molto più distribuita nei quartieri attorno al centro storico e che appartengono a ben 90 nazionalità diverse, quindi non abbiamo solo un tipo di stranieri ma abbiamo tanti stranieri, questo bisogna che ce ne rendiamo conto. Sono proprio delle vere e proprie comunità che lavorano, che hanno già un certo processo di integrazione, naturalmente se chiedete quali sono i problemi maggiori, problemi in parte, problemi economici legati alla precarietà lavorativa, ma non tanto, come diceva Simone, il fatto che non trovino lavoro, trovano lavoro, però sono lavori stagionali quando va bene, oppure aggiornate a ore e spesso sono anche non pagati come si dovrebbe, quindi mal pagati, eccetera, quindi anche il problema della tutela di queste persone nel lavoro. E poi c'è il grande problema del trovare un alloggio, queste persone non trovano alloggio, hanno un'estrema difficoltà a trovare alloggi anche nella nostra città e questo è un problema che ricorre, che ci passiamo continuamente, sempre abbiamo ascolto di persone che chiedono dove poter alloggiare, quindi è uno stimolo che io faccio a tutti voi, se abbiamo alloggi, se conosciamo persone sfitte. arrivato Perego. Perfetto, allora, Monsignor Perego, a lei la parola e poi dopo sentiremo un po' anche l'editorio cosa ha da dire. Prego. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Abbiamo sentito dei numeri dietro i quali ci sono storie, storie come abbiamo sentito di persone provenienti da 190 paesi del mondo, storie di famiglie, di lavoratori, di giovani, adulti, di donne, di uomini. L'Italia sta cambiando e sta cambiando a partire proprio da questa presenza che seppur nei numeri si sta diciamo abbastanza fermando, perché come abbiamo visto la differenza tra l'anno scorso e quest'anno è di poco più di 20.000 persone che diventano 70.000, se conteggiamo anche le persone che sono diventate cittadine italiane nel corso dell'anno. Sono numeri diversi rispetto ai primi anni del 2000, quando i dati venivano modificati con cifre dalle 200 ai 500.000. Però un dato di fatto che il mondo del lavoro, lo stiamo sentendo in questi giorni, cambia grazie anche al volto e alle storie dei migranti, il volto della scuola, questo milione di ragazzi dall'asilo, dalla scuola della infanzia fino alla scuola universitaria, che sono 100.000 universitari d'Italia. Sta cambiando la famiglia, la crescita di famiglie anche miste, di famiglie di migranti dove la presenza è uniparentale di un solo parente. Sta crescendo anche l'impresa migrante. In questi ultimi cinque anni è diminuita del 15% l'impresa italiana, l'istituzione di aziende italiane è cresciuta del 15% la crescita delle aziende migranti. Ed è interessante che la forma scelta non è società di capitali, ma società di persone, una società di tipo familiare o di tipo cooperativistico. Ecco, quindi questo elemento dell'Italia che cambia è certamente significativo e chiaramente provoca la politica anche a governare queste migrazioni, queste migrazioni legate soprattutto ieri all'economia e oggi è il numero più alto dei permessi di soggiorno ai ricongiungimenti familiari, che sono oltre la metà dei permessi di soggiorno. Ecco, come governare questo fenomeno? L'Italia ha avuto nel corso degli anni anni dalla legge Foschi in poi, fino alla legge Borsifini, una serie di proposte legislative, l'ultima è del 2002, in vent'anni anche il mondo dell'immigrazione è passato da poco più di un milione e mezzo di persone a 5 milioni. Forse ci sarebbe bisogno di una revisione di questa legge che era completamente incentrata sulla sicurezza e aveva al centro soprattutto le questure, cosa che è ancora l'elemento centrale nel governo delle migrazioni del nostro paese. Ecco, qui è un primo elemento importante e interrogativo. Forse la politica delle migrazioni ha bisogno di una revisione di fronte a questi volti di famiglie, di lavoratori, di imprese e di studenti, di studenti che il 70% hanno visto la loro nascita nel contesto italiano. Un governo dell'immigrazione che chiede più attenzione oggi, ad esempio, alla lunga permanenza che è di all'oltre il 60% dei migranti in Italia e quindi una revisione legislativa che guardi, sì, ancora la sicurezza, ma anche la sicurezza sociale. Abbiamo sentito la precarietà lavorativa, sappiamo del caporalato presente soprattutto in agricoltura, non solo al sud ma anche al nord. In questi giorni a Ferrara c'è un processo contro il caporalato, ad esempio. c'è un'attenzione alla perdita del lavoro migrante, c'è un'attenzione che deve esserci sulla tutela contrattuale, la parità di lavoro migrante prende il 30% in meno e la tutela anche della maternità e delle donne, soprattutto con le donne che fanno lavori logoranti o che fanno lavori fortemente legati alla casa, alle nostre case, un milione e mezzo di badanti, di cui poco meno di un milione regolari e oltre 500 mila già regolari. Quindi c'è una questione di giustizia retributiva, contrattuale e altro che chiede un governo diverso, delle migrazioni, una legge diversa, un'attenzione diversa. C'è un problema delle scuole, la fatica dell'inserimento scolastico dei ragazzi, mediamente un bambino straniero perde un anno di scuola, nonostante la buona volontà di tanti insegnanti che mettono nel tempo proprio, non c'è la capacità di preparare la scuola all'accoglienza per il congiungimento familiare dei figli dei migranti che tante volte poi rischiano, come abbiamo visto, il 35% l'abbandono scolastico. E qui c'è tutto un discorso sulla scuola interculturale, un documento che già era stato fatto 25 anni fa, è stato rivisto lo scorso anno, ma che ha bisogno di risorse, di strumenti che possano accompagnare nella classe certamente questi bambini che arrivano e che non arrivano all'inizio dell'anno scolastico, ma proprio perché arrivano quando c'è ricongiungimento familiare, entrano in classe in tutti i mesi dell'anno. E questo è un elemento importante da considerare, senza considerare poi l'arrivo straordinario, come è avvenuto di 40.000 bambini per l'emergenza ucraina, lo scorso anno, dal marzo fino al giugno sostanzialmente oggi e anche successivamente nel corso dell'anno. Quindi il governo dell'immigrazione chiede più attenzione a questi volti e chiede anche nuove attenzioni sul piano della partecipazione, ad esempio, alla vita amministrativa e politica del nostro Paese. 5 milioni di persone non possono avere al massimo il consigliere aggiunto senza diritto di voto. Pagano le tasse come tutti, hanno bisogno di essere rappresentati come tutti dentro un Parlamento che non può non guardare un'Italia che vede questa presenza così significativa. Poi c'è l'altro tema, che è sempre un tema di integrazione, in ordine alla cittadinanza, che per due volte la riforma della legge è stata fermata in Parlamento, una fermata assurda, se guardiamo i volti e le storie di quasi un milione di giovani che sono nati in Italia e che non possono partecipare ai concorsi pubblici, non possono usufruire di borse di studio, eccetera, come i cittadini italiani, non possono avere tutte quelle agevolazioni che sono importanti da questo punto di vista, come anche l'accesso alla casa o altro. Il tema poi della famiglia, due milioni e mezzo di famiglie, pone il problema della casa, un ricongiungimento familiare, come sapete, porta al cambiamento dell'abitazione, perché i metri quadri in cui abita una persona migrante singola o il papà e la mamma, cioè due persone, 60 metri quadri, con un altro figlio crescono 80, con due figli diventano 90, poi diventano 100, 120 metri quadri, delle cose che non è richiesta neanche agli italiani. E questo è un altro aspetto su cui bisogna lavorare, perché chiaramente non si può, come avviene in Italia, che un padre o una madre aspettino sei, sette anni prima di riuscire a fare il ricongiungimento familiare. È un diritto la famiglia, è un diritto ricongiungersi con il proprio marito, con la propria moglie, con i propri figli. E questo diritto di fatto è continuamente allontanato da una politica e da una legislazione che non facilita il ricongiungimento familiare. Tanto che i migranti che avevano mediamente, quando arrivavano da noi negli anni 90, avevano mediamente tre figli, adesso si sono adeguati anche alla caratteristica della famiglia italiana, cioè hanno un figlio sostanzialmente. Questo è un altro elemento che chiaramente pesa anche sulla natalità nel contesto italiano, che come sapete è il paese più vecchio al mondo e perderemo nei prossimi anni altri 90 bambini, 90.000 bambini, ecco. Abbiamo raggiunto quest'anno la media delle nascite che era avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale. Il governo dell'immigrazione chiede una politica diversa, una legislazione diversa, che sposti anche l'attenzione dalla Questura al Comune, perché alcune azioni importanti devono essere trasferite al Comune, riteniamo. Ad esempio, il rinnovo di un permesso di soggiorno non si capisce perché debba essere ancora in Questura. Un conto, un primo permesso di soggiorno, in cui bisogna identificare la persona, riconoscere la sua storia e determinate difficoltà. Ma quando una persona vive in una comunità, in un Comune, da due anni, da tre anni, da cinque anni, da dieci anni, è assurdo che non sia il Comune stesso, che conosce il soggetto, conosce la rete di relazioni, eccetera, che non sia il Comune stesso dobbiamo rinnovare il permesso di soggiorno come avviene da resto in tanti altri paesi europei. Ecco, quindi anche questo aspetto è certamente un aspetto importante, su cui più volte ci siamo battuti, ma ancora una volta la legislazione è ancora fortemente poliziesca e sicuritaria nel governo dell'immigrazione. In altre parole, si tratta di coniugare quei quattro verbi che già da alcuni anni Papa Francesco ci ripete, cioè accogliere, tutelare, promuovere e integrare. Questi quattro verbi sono il percorso di cittadinanza sostanzialmente dentro la quale anche la legislazione dovrebbe costruire le proprie azioni. L'accoglienza ha due facce in Italia, c'è un'accoglienza che riguarda chiaramente i lavoratori e le loro famiglie che sono un percorso, diciamo, legislativo differente rispetto a chi arriva invece in fuga da situazioni di guerra, di disastri ambientali e prende il primo mezzo che riesce e di capita rischiando, come abbiamo sentito, anche la morte di 1.500 persone solo quest'anno. Il primo percorso dei lavoratori e delle famiglie è che è l'incontro tra domande e offerte di lavoro perché l'incontro tra domande e offerte di lavoro non si può fissare soltanto a novembre con delle quote. Va gestito nel corso di tutto l'anno a seconda della produzione per quanto riguarda, ad esempio, l'agricoltura piuttosto che l'industria o l'artigianato a seconda del bisogno dei servizi alla persona penso a tutto il mondo delle cosiddette badanti cioè di coloro a cui affidiamo le persone più care della nostra vita e se non c'è l'incontro tra domande e offerte di lavoro è chiaro che le persone arrivano con un permesso turistico si fermano tre mesi entrano in famiglia, in fabbrica e c'è sfruttamento, come stiamo vedendo da diversi punti di vista con contrapposizioni contrattuali e conflittualità fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri questo tema dell'incontro tra domande e offerte di lavoro è fondamentale perché diversamente succederà ancora anche nei prossimi anni quello che è successo negli anni precedenti cioè che oltre il 60% dei lavoratori sono stati regolarizzati attraverso le famose sanatorie che hanno portato alla perdita di milioni e milioni di euro alle nostre casse per i dipegni sociali per le tutele sul lavoro e per le tutele pensionistiche e questo è una cosa veramente poco intelligente ecco favorire lo sfruttamento e favorire la perdita di risorse importanti domani per il nostro paese già adesso sappiamo che tra ciò che noi diamo ai migranti in tutti i loro servizi compresi quelle di richiedenti agire rifugiati e ciò che gli immigrati danno a noi in termini di contributi tasse eccetera c'è uno scarto di 3 miliardi di euro quasi una manovra economica a favore del nostro paese se ci fossero state da subito le regolarizzazioni di queste persone un incontro fra domande e offerte di lavoro avremmo avuto molte anche più risorse che poi si sarebbero tradotte in casa in servizi sociali in servizi sanitari dove continuamente scolastici ci sono dettagli ecco quindi l'accoglienza chiede oggi soprattutto l'incontro fra domande e offerte di lavoro chiede una serie di come dicevo prima facilitazioni che vanno ad essere attribuiti al comune come i rinnovi permessi soggiorno per non intasare i tempi della questura dove si sta ritornando al fatto che quasi quasi quando vanno a ritirare il permesso di soggiorno è già quasi il tempo di andare a farne un altro perché è già scaduto viste le lungaggini dei tempi di questi permessi ecco quindi il tema fondamentale nell'accoglienza dei lavoratori è l'incontro fra domande e offerte di lavoro superando il sistema delle quote questo è un primo aspetto importante che porta con sé poi tutte quelle altre tutele di cui dicevamo prima il secondo tema è il tema della tutela ecco tutelare le persone la tutela delle persone significa essere attenti sul lavoro alla sicurezza del lavoro accentualmente sono cinque volte tanto di incidenti sul lavoro dei migranti rispetto a quelli degli italiani vuol dire che tante volte lo abbiamo visto nei cantieri del 110 sentivamo parlare le persone soltanto in lingua persone che erano arrivate da un mese che non sanno neanche legge dei cartelli della sicurezza ecco occorre essere molto attenti al discorso della tutela perché diversamente anche gli incidenti sul lavoro le morti sul lavoro che sono state increscendo in continuazione negli ultimi due anni sono un elemento che certamente non dice questa tutela c'è poi il tema della tutela anche dei minori che tante volte hanno solo una figura parentale che non sono accompagnati a degli elementi importanti sul piano anche del gioco piuttosto che della musica o altro come sappiamo più di un milione e 600 mila ragazzi in Italia non ha accesso al mondo sportivo che è al mondo diciamo del tempo libero e tra questi molti sono anche i bambini migranti il tema della tutela è certamente importante come anche la tutela del minore che arriva in Italia non ha accompagnato c'è una legge importante che è stata fatta la legge Zampa è una delle leggi più avanzate nel 2017 una delle leggi più avanzate in Italia che è stata fatta è nata sulla base dell'esperienza anche che era avvenuta nel nostro lavoro con i migranti di carità di migranti del mondo dell'associazione cioè di tutelare da subito le persone affidandole a una persona adulta a una famiglia eccetera e questa legge ha regolamentato un po' tutto questo portando anche l'accoglienza dei minori e non accompagnati che arrivano in Italia che mediamente la maggior parte hanno dai 15 ai 17 anni portando la tutela fino a 21 anni in modo tale che ci sia un percorso di accompagnamento anche un pochettino più lungo all'autonomia il problema è che però i posti ad esempio di accoglienza i minori non accompagnati all'interno del SAI il vecchio Sprano del Sipro il vecchio SAI il vecchio Sprano in Italia i posti di accoglienza i minori non accompagnati sono meno di 10.000 se pensate che soltanto i ragazzi minori non accompagnati sbarcati e che hanno attraversato il Mediterraneo l'escorso anno sono stati 14.000 abbiamo avuto degli anni in cui ne abbiamo avuti anche 20.000 anche 25.000 nel 2015 nel 2017 è vero che molti se ne sono andati verso i paesi del nord però chiaramente non si può avere un sistema che è così ridotto ecco in Emilia Romagna noi accogliamo 588 minori non accompagnati in una regione di 5 milioni di abitanti circa 4 milioni e mezzo adesso di abitanti ecco Forri Cesena non accoglie un minore non accompagnato ecco per dire i dati dei vari progetti per i minori non accompagnati e per quanto riguarda i disabili dal punto di vista mentale o fisico ne abbiamo accolti in Italia nei progetti circa 750 di cui 123 in Emilia Romagna e anche qui la provincia di Forri Cesena non ne ha accolto uno ecco per dire questo significa che è molto importante forse che ci sia un'attenzione anche nelle nostre comunità a un'accoglienza di tipo familiare come avviene proprio per quanto riguarda i minori non accompagnati Forri Cesena ha due progetti uno di 38 in città per rifugiati e richiedenti asilo e uno di 60 persone nell'unione dei comuni ecco accogliete 100 tra i richiedenti asilo e i rifugiati ecco non mi pare che sia un carico così pesante come del resto in Italia aver accolto nei progetti del Siproiumi 45.000 persone a cui si aggiungono 80.000 persone nei CAS cioè nei grandi centri siamo tra i paesi sostanzialmente che ne hanno accolto di meno nel contesto europeo percentualmente gli abitanti siamo al 12esimo posto ecco a fronte di un milione di accoglienze di rifugiati e richiedenti asilo in Germania un milione e due ai 650.000 della Francia ai 300.000 della Spagna senza contare poi i 500.000 della Inghiterra che non è più nella comunità europea per dire che non è che siamo proprio così invasi anche da richiedenti asilo e rifugiati perché la maggior parte delle persone che a volte sbattano poi prendono il percorso pensate che dal 2015 ad oggi sono sbarcati in Italia quasi un milione di siriani ne sono rimasti nove in Italia nove ecco 800.000 sono in Germania e sono stati intelligenti ad accogliere sono stati una delle operazioni più grosse della merca perché erano persone di una grande professionalità di una grande capacità intelligenza anche concreta ingegneri architetti insegnanti medici eccetera che hanno diciamo dato un contributo importante alla crescita e allo sviluppo dello stato sociale nella stessa Germania il tema della tutela però è un tema molto importante anche nella tutela contattuale anche nella tutela delle donne sole che hanno un figlio o che stanno aspettando un figlio il 30% delle interruzioni di gravidanza in Italia riguardano ancora donne immigrante e c'è un lavoro grosso anche alcune caritas con questi sportelli anche di carattere medici ambulatori che sono certamente significativi la terza parola importante è la promozione avere la capacità di far diventare il migrante lo diciamo sempre anche per quanto riguarda i progetti creativi sui poveri anche per i migranti che non sono per l'antolomasia poveri perché hanno delle ricchezze dal punto di vista delle capacità come direbbe Amartya Sen occorre fare in modo che vengano sfruttate le capacità noi abbiamo medici del loro paese che arrivano in Italia e fanno la badante perché non c'è il riconoscimento del titolo non c'è neanche l'accompagnamento a fare in modo che l'integrazione possa portare a questo tipo di esercizio di una professione che uno ha già imparato nel suo paese abbiamo dei siriani qui a Ferrara che stanno due universitarie siriane che hanno già laureate in lingua inglese in lettere straniere nel loro paese stanno rifacendo la laurea qui a Ferrara perché non c'è riconoscimento del titolo quindi tante volte questo tema è un altro tema importante la promozione delle capacità di un soggetto che ci sta dimostrando anche di essere più capaci di fare impresa rispetto ai giovani italiani come dicevo prima il 15% in che modo favorire questo in che modo favorire anche lo studio universitario siamo il paese che accoglie meno universitari percentualmente in tutta Europa anche su qui serve chiaramente una serie di azioni in questo campo che possono portare a delle abilitazioni che sono importanti e poi c'è l'ultimo verbo integrare che è un percorso bionivoco di accoglienza reciproco dentro il quale c'è in che modo un soggetto che viene da un'altra città di un altro paese può diventare un cittadino dentro una comunità e lo resta fuori e c'è quel discorso che dicevamo prima della cittadinanza della rappresentanza politica c'è già una rappresentanza significativa sul piano sindacale quasi un milione dei due milioni e mezzo di lavoratori stranieri sono iscritti al sindacato c'è quindi un percorso significativo in questo in questo senso ecco queste quattro parole sono quattro verbi che sono importanti anche nel leggere diciamo tutto il tema di questi giorni cioè degli sbarchi degli arrivi cioè l'aspetto dell'accoglienza che significa identificare una persona a terra a riconoscere da che storia avviene sapere che tipo di protezione internazionale ha diritto se ha diritto all'asilo se ha diritto alla protezione sussidiaria se ha diritto alla protezione speciale se ha diritto a una protezione temporanea ecco questo è un modo di fare accoglienza se poi una persona che arriva non ha diritto a nessuno di queste protezioni viene rimpatriato e c'è tutto il discorso degli accordi con i paesi di provenienza per rimpatri tutti i tunisini che sono arrivati in Italia negli sbarchi il secondo gruppo più numeroso negli ultimi anni quest'anno il gruppo più numeroso nel 2022 è stato la Nigeria il secondo il Bangladesh il terzo il Pakistan il quarto il Mali la quinta la Somalia ma negli anni scorsi la Tunisia era il secondo posto tranne alcuni minori non accompagnati tutti gli altri sono stati rimpatriati perché c'è un accordo con la Tunisia da questo punto di vista ecco quindi questo tema è un tema importante da politica estera che bisogna certamente rafforzare laddove è possibile perché la Tunisia pur nella difficoltà economica che vive eccetera che dovrebbe portare come è stato fatto dalle quote a premiare le quote maggiori che vengono di lavoratori di questo paese per altri paesi non è possibile rimpatrio le 80 persone che sono morte a Kutlo provenivano lo sappiamo dalla Siria paesi in guerra con 5 milioni e mezzo di profughi provenivano dall'Afghanistan dove noi abbiamo fatto rimpatriare con dei corridoi umanitari speciali 5 mila persone che erano state i nostri collaboratori e abbiamo piantato là tutti gli altri dall'Iran dove le donne vediamo cosa sta succedendo le loro uccise non possono rappresentare e presentare la loro candidatura in università piuttosto che in altre realtà e dall'Iraq che è il quinto paese al mondo per il gran numero di disastri ambientali come si fa a dire a queste persone tornate a casa vostra forse c'è bisogno di un'accoglienza pianificata che deve essere costruita nel territorio tra gli 80 morti c'erano 35 bambini anche quindi c'erano famiglie c'erano famiglie che avevano già qui un genitore anche in Italia o nel contesto europeo quindi anche per i rifugiati il primo tema è certamente l'accoglienza che chiede certamente la distribuzione in tutti i paesi europei ma che l'Italia faccia la sua parte attraverso un'accoglienza diffusa chiudendo una volta per tutto per tutti i CAS e facendo in modo che oltre ai 1700 comuni che stanno facendo un progetto si proimi cioè di accoglienza diffusa anche gli altri semina comuni si attivino in questo senso in modo tale che l'accoglienza diffusa eviti agglomerati che poi creano gli immigrati che creano una serie di problematiche che sappiamo invece anche l'ultimo bando che si è chiuso l'altro giorno del ministero premia i centri di 100 persone fino a 200 persone e di 50 persone e non invece l'accoglienza diciamo distribuita di tipo familiare in un appartamento c'è un tema poi che è fondamentale il tema della casa dell'accoglienza è fondamentale anche avere delle case avere una quota di case anche legate agli enti pubblici comunali che possono essere destinate a questo tipo di accoglienza delle nostre città pochissime città hanno destinato un appartamento per l'accoglienza degli ucraini che sono arrivati quanti comuni hanno destinato anche un solo alloggio di edilizia popolare si nascondono dietro i regolamenti e tutto il resto però l'accoglienza non si fa con delle disponibilità altrimenti noi avevamo il più grande piano di case popolari dopo guerra il piano fanfari 100.000 case popolari sono rimaste quelle in 50 70 anni da 50 fino ad oggi forse c'era bisogno e poi c'è il 40% di questo patrimonio che ha abbandonato se stesso non si può utilizzare ha bisogno di ristrutturazioni però abbiamo visto che anche con il PNR pochi hanno portato l'attenzione sulle case popolari sul tema della casa tutti hanno portato l'attenzione sulle strutture più di carattere generale e meno anche su questo bene che è fondamentale per un paese che se non accoglie muore perché noi stiamo morendo New York Times dieci giorni fa ha detto l'Italia sarà il primo paese a scomparire dal punto di vista etrico perché siamo il paese più vecchio al mondo dopo il Giappone quindi da questo punto di vista forse c'è qualcosa in più da fare sul piano proprio delle politiche ma anche della sensibilizzazione sociale ecco da questo punto di vista e credo che sia importante che il nostro lavoro vada in questa direzione di coniugare e specificare sempre di più che il percorso il cammino di incontro questa cultura dell'incontro che dobbiamo costruire con l'altro che proviene da 190 nazionalità diverse con esperienze anche religiose diverse come stiamo vedendo ha bisogno di coniugare queste quattro parole questi quattro verbi che il Papa più volte ci ha ricordato accogliere sì ma con la tutela con un percorso di promozione e poi di integrazione cioè da persone a cittadini che rigenerano le nostre città e i nostri paesi grazie 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 signor Perego direi che ha fatto una gran bella disamina dei problemi delle questioni che sottintendono questi quattro verbi e soprattutto direi che ci ha stimolato con delle ci ha anche prospettato quelle che possano essere che devono essere le azioni concrete perché finalmente insomma si superi questa situazione sulle sull'accoglienza sulla protezione sull'accompagnamento e l'integrazione dei migranti nel nostro paese ma direi in Europa nel mondo bene siamo abbiamo un po' di tempo anche per fare qualche domanda sì siamo partiti con un quarto d'ora di ritardo probabilmente ci possiamo prendere qualche minuto dopo le 10 e 30 che di solito consideriamo l'ora di termine quindi io invito a fare delle domande a porre qualche domanda così possiamo dare un ulteriore momento di replica anche a Simone Varisco e soprattutto a Monsignor Pereco qualche intervento porti tu il microfono me Grazie. Casa, lavoro, istruzione. Sulla questione della casa, io cito un'esperienza molto personale, una parrocchia furlivese ha ospitato una famiglia di nigeriani con due figli piccoli di un anno e mezzo. Ci è voluto quasi un anno per ottenere la idoneità alloggiativa, un appartamento abitato da italiani, ha richiesto la residenza di una famiglia di stranieri, abbiamo dovuto produrre la idoneità alloggiativa, chi aveva più i certificati dell'idoneità dell'alloggio, le conformità degli impianti. E non vi dico la fatica, ci siamo arrivati ma con non poca fatica. E su questo mi chiedo, noi come parrocchie, quante case che con un po' di disponibilità, un po' di lavori si potrebbero mettere a disposizione di chi ha bisogno. Facciamocelo in casa nostra anche a questa analisi perché secondo me gli spazi ci sarebbero. E' chiaro che ci vuole una persona che segua le cose, non è che basta dare la disponibilità e poi si può partire il giorno dopo, ma qualcuno che segua la cosa. Sulla questione invece del lavoro è interessante il riferimento che ha fatto Monsignor Perigo perché è vero, io vedo un funzionario della Camera di Commercio che da anni analizza quante imprese sono gestite da persone straniere. Vero Alessandra? E' vero, non fanno società di capitale ma fanno società di persone o ditti individuali. E non solo nella ristorazione, non solo nella ristorazione o nel commercio ma anche nella metallomeccanica e in altre imprese. Sono le imprese un po' più solidi di quelle italiane perché mi pare che quelle entrate in crisi sono di più di quelle italiane. E qui ho solo questi due accenni. Prego. Funzionale. Prego, Davide. Metto qua, metto qua. Intanto un saluto a Monsignor Giancarlo Perigo che io chiamo ancora Don Giancarlo, non so se lui ci vede. Ci vede. Sì, sì, si vede. Davide Brei, Don Giancarlo, abbiamo a Roma gestito alcuni progetti insieme. Quando direi ancora Don? Quindi benvenuto. Ma io tanto volevo ricordare una cosa. Secondo me oggi è un anniversario che forse pochi ricordano. Ma 32 anni fa, il 7 marzo del 1991, si inaugurava la stagione dei grandi sbarchi in Italia da parte di migranti che venivano da altri paesi. E il 7 marzo del 1991 arrivarono 25 mila albanesi, cominciarono il 7 marzo, arrivarono il 7, l'8, l'9, due grandi navi, la Tirana e l'Illiria. Ed era l'apertura della prima grande frontiera, quella dell'Albania. Poi ovviamente ci sono stati tanti altri cicli, tanti altri fussi, tanti altri sbarchi nel Mediterraneo e vabbè, poi conosciamo emotivamente quello che è successo in questi giorni. In 32 anni non credo che questo paese abbia fatto grandi passi in avanti nel comprendere che cosa sta avvenendo e come affrontare il tema dell'accoglienza, anche emergenziale degli sbarchi. Anzi, io credo che 30 anni fa c'era forse una lungimiranza e un senso di accoglienza e di prospettiva maggiore. Ricordo che 25 mila persone a Brindisi, che poi vennero nelle settimane successive distribuite in tutta la Puglia, e nei mesi successivi in tutta Italia arrivarono anche a Forlì. Anzi, facciamo un importante progetto di accoglienza per minori, erano minori non accompagnati. Allora, in qualche maniera, accogliere in una regione del sud Italia, 30 anni fa, così tante persone, ci furono tante solidarietà istituzionali e della gente. Perché allora non c'era un sentimento di paura, non si temeva ancora l'immigrato, lo straniero, come purtroppo poi nel corso degli anni 90, invece, è cominciato a emergere nelle narrazioni e nelle paure che si sono cominciate a instillare all'interno delle comunità e nella popolazione. Don Monsignor Perigo ha ricordato la legislazione che è subito stata anche rapidamente aggiornata nei primi anni 90. Ricordo, la legge Martelli era una legge che aveva il tema della gestione dei flussi, per quel poco che c'erano, i numeri ancora bassi che c'erano, ma anche quelle delle prime, dell'organizzazione, del finanziamento delle prime strutture di accoglienza. Allora erano i centri di prima accoglienza, c'era un'immigrazione appena arrivata, non si immaginava la strutturalità. A Forlì vennero finanziati due centri che tuttora servono ancora per l'accoglienza di persone straniere, con quelle risorse lì. Ma negli anni successivi ha prevalso la logica e la paura, per cui anche la normativa, con le leggi che ha citato sempre Monsignor Perigo, è uscita dall'idea della gestione del flusso, della temporaneità, della transitorietà e della progressiva integrazione, e ha prevalso la dimensione della sicurezza, dell'ordine pubblico, piuttosto che quella della prospettiva delle persone che qui arrivarono. Ed è vent'anni che non si rinnova la normativa sull'immigrazione. Ma perché? Perché la politica è schiava delle paure del tema dell'immigrazione. Qualcuno lo strumentalizza, ma qualcun altro ne ha assolutamente paura, per cui oggi non si riesce davvero a creare un movimento, una prospettiva, un pensiero lungo sul tema e sui bisogni, che non sono solo quelli dell'accoglienza. Quella forse può essere considerata un'occasione, perché il vero tema, lo ricordavo proprio alla fine Monsignor Perigo, è che noi siamo una società che è estremamente frammentata, invecchiata, dove le giovani generazioni non stanno sostituendo le generazioni precedenti. E allora, un grande progetto strutturale, strategico e di respiro internazionale, perché l'Italia da solo non può ovviamente governare, ma queste sono cose naturali, dove in qualche maniera si rende legale, lecito, lo si lega certamente alla domanda di lavoro, ma non solo alla domanda di lavoro, anche alle prospettive di cambiamento sociale delle nostre comunità. Allora, io credo che oggi serve davvero un grande spirito, un grande slancio. Serve nella politica, certamente, ma serve certamente in una società civile, nelle istituzioni e nella Chiesa stessa, a richiamare la necessità della lungimiranza. Se noi ci troveremo a piangere i morti, come rapidamente succede, è ricordato all'inizio, nel 2013, il 3 ottobre del 2013, venne la più grande, la più grave tragedia di mare, ma ogni due o tre anni ne sono successe prima, ne sono successe dopo, anche in Adriatico, anche con gli albanesi alla fine degli anni 90. Cioè, quest'anno ne sono morti 238 dall'inizio dell'anno. Non possiamo pensare che si viva solo di emozioni, una grande attenzione mediatica in quel momento, che poi sfuma e non si pensi invece di tramutare in azioni strutturali e in politiche di lungo respiro, però chiedendo davvero alla politica di avere coraggio in questo senso. Non tutto, come dire, non è servito. Io credo che invece sia stata, sia cresciuta in questi 30 anni, una società civile organizzata, fatta di associazioni di natura diversa, di servizio, di volontariato, interculturali, di partecipazione, cooperazione, cooperazione dedicata, e anche una diffusa consapevolezza. Per cui è maturato il contesto, è maturato certamente la capacità di dare risposta, purtroppo per lo più emergenziale, perché per le risposte strutturali poi si evidenziano tanti limiti e tanti problemi strutturali nel dare risposta non solo agli stranieri poveri, non solo agli stranieri in disagio, ma anche agli italiani in difficoltà. Sono un po' la cartina al tornasole, perché se ci sono poche case per gli stranieri vuol dire che c'erano già da prima poche case anche per gli italiani, solo per fare l'esempio della casa. E la soluzione non è fare solo le graduatorie e mettere in fila i disagiati di serie A e i disagiati di serie B, ma quella di aumentare ovviamente la capacità di risposta. Certo, non sono risposte semplici, certamente, però una diffusa consapevolezza, non solo emotiva, ma come dire che pensi che questa sia una sfida del nostro tempo, coinvolge certamente il nostro paese, ma anche la nostra comunità. Arrivederci, Don Giancarlo. Altre domande? Facciamo una domanda anche a Simone Varisco. Siccome si occupa tanto, si sta occupando molto del rapporto fra mobilità migratoria e le religioni, chiediamo, possiamo chiedere come il dialogo fra, anche il dialogo islamico cristiano, oppure lo stesso dialogo fra le comunità cristiane, non è più in linea, può contribuire ad affrontare il problema delle migrazioni e dare qualche idea, insomma, qualche azione utile per risolvere questi problemi. Non è più in linea. Non è più in linea? No. Ok, niente. Al Monsignor Perego chiederai... Non sarà colpa mia. No. Il Monsignor Perego chiederà... Ma se c'è la percezione in molte persone, appunto, di questa disparità di trattamento riguardo l'accoglienza fra gli ucraini fuggiti da una guerra, che sono arrivati in Italia l'anno scorso e che hanno avuto riconosciuto in tempi brevi una protezione temporanea, e invece non abbiamo mai fatto nulla fino ad ora, continuiamo a non fare nulla per le altre persone che fuggono ugualmente da guerre, altri focolai di guerra. Ecco, questo doppio binario qualcuno a volte si chiede come mai la politica lo accetta. Grazie. Massimo Tesei. Sì, vorrei parlare di due cose. Uno è un fatterello che vi voglio raccontare perché penso attraverso questo fatterello di poter convincere qualcuno di come sia abbastanza facile essere felici. Io anni fa sono stato chiamato da una funzionaria della cooperativa di Davide Drei a cui ero iscritto anch'io e che collaborava col comune e mi disse guarda c'è un ragazzino che sta per compiere 18 anni è disperato perché a Forlì della Guinea Conacri non c'è nessuno, non conosce nessuno e quando avrà 18 anni deve uscire dalla cooperativa che l'aveva accolto. e io disse va bene, cosa devo fare? No, prima che compi 18 anni non lo accoglieresti in casa. Bene. È stato a casa mia un po' di tempo. Poi ha trovato il lavoro, siamo riusciti a trovare anche una casa grazie a un'amica. Stasera era cena a casa mia con la sua moglie e il suo figlio. Dire che è stata una gioia è poco. Quindi io non capisco perché ci debba essere ancora questa chiusura nei confronti di questi ragazzi. Guardate che ospitarli, aiutarli anche a crescere, a conoscere il nostro paese, imparare un'altra lingua, aiutarli a farsi una famiglia. Io l'ho aiutato a farsi una casa in Guinea per la sua famiglia perché gli ho dato i soldi e lui me li ha restituiti. Piano piano, mese per mese, me li ha restituiti. Cioè io sono veramente felice. E lui pure. E la sua moglie e questo bambino che sono venuti a casa mia stasera che non parlano ancora una parola d'italiano ma ridevano. Erano felici anche loro. Da domani verranno nella nostra scuola d'italiano, la Penny Whirton che c'è a Forlì, e impareranno a integrarsi in questa società. La seconda cosa che vi voglio dire riguarda invece il problema della casa che è un problema drammatico. Drammatico. In una città dove ci sono centinaia e centinaia di appartamenti vuoti, che stanno andando in malora. Io sono contro l'idea che il proprietario possa fare quello che gli pare della sua casa. Questa è un'idea sbagliata. La casa l'ha pagata lui, sono d'accordo, ma è inserita in una città, è inserita in una società. Uno non può prendere una casa, poi non gli interessa più, non gli serve, e la manda in malora. E non vuole affittarla a nessuno. Questi ragazzi, io ne conosco tantissimi, lavorano tutti, quelli che sono passati nella nostra scuola. Lavorano tutti. Hanno il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Telefoniamo, io telefono all'agenzia, pronto, avete una casa da affittare? Certo, posso venire anche adesso? Sì, arrivo lì col mio amico straniero, quello dell'agenzia Sbianca, e mi dice per chi è la casa? Dico, è per lui. Ha il lavoro, può pagare. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Mi dispiace, ma il proprietario mi ha detto di no. Questo succede tutti i giorni. Va bene? Succede in questa città, eh? Qui a Forlì. Io credo che anche in questa sala, se io potessi parlarvi un'altra mezz'ora, ne salterebbero fuori degli appartamenti. problema che in questa società si è lasciato uno spazio incredibile, va bene, alle falsità. Io credo che qui ci siano ancora persone che hanno l'idea che questi migranti, quando arrivano, prendono 35 euro al giorno. Salvini l'ha ripetuto tutti i giorni. Va bene? E la gente ci ha creduto a questo fatto. Ma gli stranieri, quando venivano, perché adesso non ci sono più questi soldi, ma quando venivano, prendevano due euro per una bottiglietta d'acqua. Gli altri 33 euro sono andati agli italiani, cioè a quelli che lavoravano nelle cooperative di accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, io ancora non riesco a capire, perché ci debba essere una paura del genere. So che cosa è successo anche, eh? Non è che io sono qui a fare l'ipocrita. So che delle persone che all'inizio hanno affittato i loro appartamenti, se li sono visti maltrattati. Gli appartamenti. Va bene? Questo è successo. Non deve succedere. Con i ragazzi che conosciamo noi non succede più. Perché noi cerchiamo di insegnargli. Io ho fatto il contratto di due case, perché altrimenti non gliela davano. Però si sono fidati di me, ho fatto il contratto io. Adesso la proprietaria si fida talmente che gli vorrebbe vendere i suoi appartamenti a questi ragazzi, ma sarà difficile. Però, noi dobbiamo tenere conto di com'è la vita nei paesi da cui vengono questi ragazzi. Perché quando il mio amico che è abitato lì con me, il suo zio gli ha telefonato e gli ha detto guarda che qua ti stanno portando via la terra perché lui aveva della terra intestata che era del suo babbo che è morto. Ma lui non sapeva che cosa fare di questa terra, no? Dopo è nata l'idea di e gli ha detto Muchi, scusa, ma quanto costa fare una casa in Africa? Ah, ma chiedilo al tuo zio. Insomma, alla fine costava 8 mila euro farsi una casa. Allora gli ho chiesto, gli ho detto Muchi, però devi prendere anche la lavatrice per la tua mamma, poi devi prendere il frigorifero, devi fare una casa come si deve. E lui ha detto la lavatrice? E dov'è l'acqua? Come dov'è l'acqua? No, l'acqua l'andiamo a prendere con la tannica a mezzo chilometro dal villaggio. Lì la lavatrice non funziona. E il frigorifero? Quello lo puoi usare, no? Perché la luce dov'è? E allora queste persone che vengono da paesi così lontano hanno una vita completamente diversa dalla nostra e non sono capaci di tenere una casa come facciamo noi. Se mi cadevano delle briciole per terra la mia mamma mi arrivava subito con lo scopo oi bimbo quella roba è tua ma lì per terra non ci sono i pavimenti c'è la terra con il tappeto l'aspirapolvere non funziona l'acqua bisogna andare a prenderla lontano cioè vivono in un altro modo ma non è uno scandalo non è uno scandalo guardate io sono vecchio anch'io dico anch'io perché vedo un po' di amici che hanno la mia età sono vecchio anch'io sono andato a Torino tanti anni fa perché non credevo quello che si raccontava cioè non si affitta ai meridionali guardate che anche la mia mamma mi raccontava queste cose qui io ho visto i cartelli a Torino e sentivo le voci e anche la mia mamma le ripeteva cosa vuoi sperare che nella vasca da bagno hanno piantato il basilico e i pomodori adesso non succede più però allora era così era così c'è ho finito c'era la difficoltà la difficoltà di accettare la diversità di non capire che era era un altro mondo il meridione negli anni 50 ed era così difficile ma poi le cose sono cambiate sono cambiate allora io vi dico questo dipende molto dalla buona volontà di tutti voi perché poi se c'è la buona volontà dopo per fortuna si ha anche voglia di lottare e di dire basta queste case bisogna dargliele perché non abbiamo niente da guadagnare ad avere delle persone che hanno il lavoro e devono dormire per strada grazie Massimo allora direi di dare la parola a Monsignor Perego per un saluto e per un commento finale poi dopo diamo la parola Sua Eccellenza il Vescovo per la chiusura d'accordo Sì gli interventi che si sono succeduti hanno sottolineato giustamente una serie di aspetti che già dicevamo soprattutto in riferimento al percorso di stabilità della presenza in Italia di cui la casa e il lavoro sono due elementi certamente importanti ecco credo però che uno dei compiti importanti oggi sia quello si dice di aiutare una sorta di welfare generativo cioè che ci sia la capacità di generare all'interno delle nostre comunità nuove esperienze nuovi percorsi che possono andare incontro anche a questi aspetti anche nella chiesa italiana ad esempio il progetto Policoro sull'impresa giovanile è nato su questa linea e oggi 367 imprese sono nate da questo progetto così come anche la linea ad esempio attuale dell'housing sociale cioè di favorire anche attraverso le fondazioni bancarie banche intesa e altre queste queste linee sono sono importanti significative cioè occorre che la società civile dia una serie di segnali che che sveglino la politica su alcune possibilità che possono essere messe in campo attorno ad alcuni temi che sono fondamentali per la vita delle persone come si diceva sia migranti che non migranti quindi il tema del welfare generativo credo che sia un aspetto importante sia sul piano sociale ma anche sul piano diciamo di una nuova capacità anche di ridisegnare urbanisticamente anche la stessa la stessa città ecco c'è il tema della comunicazione che nell'ultimo capitolo che ha affrontato anche il varisco nel rapporto di quest'anno che è un tema importante perché se la comunicazione continua a ripetere alcuni stereotipi è chiaro che non fa educazione ma fa controinformazione e non aiuta questi processi ma alimenta ancora oggi la distanza se non la paura da un certo punto di vista quindi c'è un lavoro importante che occorre fare anche nei nostri mezzi di comunicazione sociale sul modo con cui comunichiamo all'interno anche delle nostre comunità alcuni temi come il tema ad esempio delle migrazioni ecco l'aspetto poi dei richiedenti asili e rifugiati si ricordava il 91 era appena c'era appena stata la legge Martelli prendevano per tre mesi 45 euro i richiedenti asili e rifugiati che poi nel 2000 nel PNA lo abbiamo fatto anche con il Corso Vari una prima esperienza del PNA che poi ha generato nel 2002 i primi processi diciamo che hanno cercato di invertire il discorso dei centri di accoglienza che avevano sostituito i tre grandi profughi campi profughi in Italia che da dopoguerra fino a sostanzialmente al 90 c'erano stati ecco a Latina a Trieste e a Capua in questi anni chiaramente il processo di accoglienza diffusa si sperava fosse un processo che sarebbe andato avanti in continuità invece ha avuto una serie di battute da resto i famosi decreti di sicurezza che hanno riportato ancora l'attenzione sui grandi centri e poi al tema anche soprattutto di un'accoglienza ridotta in minimi termini e non capace di generare una presenza nuova di un popolo che era in fuga e aveva bisogno di una nuova casa che diventasse anche una nuova patria ecco sostanzialmente perché in alcuni paesi alcuni non ritorneranno non ritorneranno più con l'Ucraina certamente dopo 20 anni si è riutilizzato la protezione temporanea che per 20 anni quei rifugiati non si era più utilizzata provenienti da altri 60 paesi del mondo e questo è stato un segnale certamente importante però non dimentichiamo che in Italia c'è la comunità più grande di Ucraina in Europa 250 mila persone e noi abbiamo accorto 170 mila persone tra gli ultimi rispetto agli altri paesi europei in Germania ne sono andate un milione ecco in Francia ne sono andati 600 mila in altri paesi in Polonia ne hanno accorti che erano vicini più di un milione e duecento ecco ma soprattutto ancora una volta i centri di accoglienza cioè le istituzioni sono stati capaci di accogliere 20 mila persone a cui si sono aggiunte 30 mila persone della protezione civile grazie però all'offerta di posti di Caritas di Conf Cooperative delle grandi associazioni in realtà ecco centomila persone più di centomila persone sono state accolte informalmente nelle famiglie nelle parrocchie quindi non siamo stati in grado di dare una risposta la tessera di 300 euro per l'adulto e di 150 euro per il minore è arrivata dopo sei mesi quando invece in un paese povero come la Moldavia ogni ucraino che arrivava riceveva un banco ma con 250 euro che poteva spendere subito per i beni di prima necessità la stessa cosa in Ungheria la stessa cosa in Polonia cioè siamo ancora molto lenti perché non pensiamo prima le cose non le strutturiamo prima col center in cui si doveva inserire i dati doveva funzionare da maggio si è aspettato fino a settembre non funzionava ecco quindi ci sono tutte queste inefficienze che poi pesano profondamente e quasi 100.000 persone sono transitate dall'Italia sono andate negli altri paesi figure e persone anche importanti sul piano del lavoro perché con un permesso di protezione temporale uno può lavorare avere un contratto regolare eccetera e quindi moltissimi hanno trovato il lavoro anche di queste ucraini lavori stagionali alcuni alcuni hanno messo a frutto la propria capacità ecco anche i 40.000 sono stati gli studenti ucraini che sono stati accolti ma gli studenti ucraini erano oltre 70.000 moltissimi si collegavano da casa con la propria piattaforma con gli insegnanti che erano nel proprio paese e noi non siamo stati capaci di intercettare ad esempio questa esigenza però al di là di questo certamente ci sono stati soprattutto per quanto riguarda la protezione temporanea un atteggiamento differente rispetto a quello che per vent'anni abbiamo ottenuto nei confronti degli altri richiedenti asilo o rifugiati facendoli attendere nei CAS per un anno anche due anni in attesa che le commissioni facessero l'esame ed essero poi l'eventuale permesso di protezione forma di permesso di protezione internazionale quindi credo che bisogna lavorare ancora molto su questo sia per snellire il procedimento ma anche perché ci sia veramente un sistema diffuso che sappia accompagnare le persone e accompagnare le persone significa sicurezza sicurezza sociale anzitutto per loro oltre che per noi e per la comunità e questo che non si capisce non è che hai più sicurezza mettendo nei centri delle persone che poi escono quando vogliono e vanno nei giardini nelle piazze e si fermano nelle diverse realtà senza dare una prospettiva ha molto più senso un'accoglienza diffusa che accompagni le persone da questo punto di vista e questo è ancora ciò che non si capisce proprio perché c'è ancora questa taratura sulla sicurezza sulla chiusura e sul pensare di rimandare indietro le persone senza immaginarci quali sono le situazioni che vivono nei paesi di provenienza il signore citava prima la Guinier Conacrino non dimentichiamo che nel 2000 tutti noi abbiamo raccolto 30 miliardi di lire per condonare il debito estero dello Zambia e della Guinier Conacrino erano state fatte scuole ospedali con questi soldi eccetera poi è scoppiata la guerra ha distrutto tutto quello che abbiamo fatto e si è ricominciato ancora da capo un percorso e un piano di sviluppo bisogna essere anche molto attenti a fare in modo che effettivamente quando si spendono delle risorse nei diversi paesi anche qui ci siano delle situazioni capaci di mantenere quindi è importante che ci sia anche un lavoro sulla democrazia cioè sul governo di un paese rispetto al fare semplicemente dei progetti sociali ci sono le condizioni a monte che sono fondamentali perché ci siano poi le tutele che sono successive bene Monsignor Perego noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua conversazione sempre interessante e stimolante adesso prima di dare la parola a Sua Eccellenza ricordo il prossimo incontro martedì 14 sul tema lavoro e disabilità sarà una tavola rotonda con tre relatori rispettivamente con un'impresa sociale un sindacato e il centro per l'impiego quindi a martedì fra una settimana ancora qui prego a Sua Eccellenza beh intanto grazie Don Giancarlo dell'intervento anche di questa serie di tutto il servizio che hai fatto in questi tanti anni prima nella Caltes adesso migrante come vescolo sì credo che abbiamo fatto tanto come chiesa in questi anni è vero però certamente non si riesce ancora evidentemente a creare la mentalità e una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione e tutto quello che è della tutela eccetera come si diceva prima perché insomma siamo figli del nostro tempo anche noi quindi anche dentro anche nelle comunità cristiane eppure dicevo qualche volta a qualcuno che fra un po' dovremmo noi andargli a prendere gli immigrati perché ne abbiamo estremamente bisogno ma quello che invece è quello che conta mi pare che questa sera si sia sottolineato quanto è importante l'accoglienza perché questo crea responsabilità sia di chi accoglie di chi è accolto per creare una società più giusta e più capace di convivere ecco nella nella pace e nella convivenza pacifica appunto io credo che sia importante sottolineare come le possibilità ci sono l'abbiamo visto solo che magari non siamo sempre in grado di mettere a disposizione io volevo solo ricordare venerdì c'è un appuntamento in comunione con tutte le chiese che sono in Italia all'interno di questa catena di preghiera per la pace in Ucraina e non solo in Ucraina che è iniziata alcune settimane fa e si concluderà nei pressi della Pasqua ci troveremo alle 19 a pregare nella chiesa di San Filippo in comunione con gli amici ucraini credo che davvero sia anche questo un segno di accoglienza e di comunione io vi ringrazio vi auguro buonanotte a tutti e che il Signore ci benedica e ci aiuti davvero a vivere e portare un po' di più pace in questo mondo grazie e buonanotte a tutti buonanotte a tutti saluti di nuovo a Don Giancarlo grazie a tutti grazie a tutti